Nell'ambito dello sviluppo degli headquarters, quindi una tipologia di architetture che si rifanno in modo diretto a quella che è il marchio o chi poi dovrà veramente viverlo, un progetto importante che stiamo consegnando in questi giorni sono gli headquarters della Nestré ad Assago. Anche questo per noi è un progetto interessante perché va a toccare molte scale della progettazione da quella puramente urbanistica, quindi di controllo del territorio a livello urbano fino ad arrivare invece al controllo materico dell'edificio con delle caratteristiche abbastanza uniche per quanto riguarda la tipologia del vetro e di questa terracotta del basamento che è diventato per noi proprio una base di sperimentazione tipologica di cui prossimamente tenderemo a parlare molto.